Suona la campanella per l'ultima volta. L'11 giugno 2021 segna la chiusura di uno degli anni scolastici più travagliati di sempre. Avviato in presenza, proseguito con la didattica a distanza, è stato poi caratterizzato per larga parte dalla didattica mista, fortemente voluta dalla regione Puglia. Ai genitori è stata data la possibilità di scegliere se tenere i figli a casa o mandarli in aula, una soluzione che ha creato non poche difficoltà organizzative alle scuole. Ora però il traguardo è stato tagliato e con il dirigente della scuola secondaria di primo grado Fiera Mosca di Barletta, Francesco Messinese, abbiamo tracciato un bilancio di quello che è stato l'anno trascorso. Tutto sommato è stato un anno scolastico molto travagliato ma comunque io penso che gli obiettivi sono comunque raggiunti. È chiaro che la didattica a distanza non può sostituire la didattica in presenza, sono due concetti completamente differenti, però in qualche modo ha permesso di tenere i contatti con i ragazzi e di far acquisire loro almeno i contenuti piuttosto che insomma le competenze in maniera appropriata perché per quanto riguarda le competenze noi sappiamo ci sono delle componenti emotive che entrano in ballo e diciamo le acquisisci maggiormente in presenza. Obiettivo per l'anno scolastico 2021-2022 è solo uno, quello di superare la didattica mista e tornare tra i banchi in presenza. Noi ci auguriamo insomma, io sono speranzoso perché dovremmo continuare, dovremmo iniziare l'anno scolastico in maniera differente, radicalmente differente rispetto al precedente anno scolastico, vuoi per il discorso diciamo vaccinazione che sta andando avanti. Abbiamo conosciuto, abbiamo cominciato a capire un po' di più di questo virus insomma. Vi dico che per quanto ci riguarda avevamo messo in atto tutti i provvedimenti opportuni per iniziare l'anno scolastico, per continuare in presenza insomma con tutte le misure per evitare il contagio. Banco di prova importante per il rientro in aula saranno gli esami che quest'anno saranno in presenza anche per le secondarie di primo grado. Siamo prontissimi, la novità di quest'anno è che chiaramente il ragazzo sostenerà soltanto una prova orale però la farà in presenza. Chiaramente esperienza già fatta nella scuola superiore di secondo grado, secondaria di secondo grado lo scorso anno, il ragazzo individualmente arriva in classe, distanziamento opportuno, mascherina e il ragazzo individualmente parlerà insomma alla commissione, comunque soprattutto per quei ragazzi che non hanno frequentato l'anno scolastico, una parvenza di normalità sostanzialmente. Il messaggio che Messinesi rivolge a tutta la popolazione scolastica è all'insegna della speranza. Il mio messaggio è di tenere duro, continuare a sperare e pensare che a settembre si tornerà la normalità.